Emma Marrone Emma Marrone, strano incontro con Alvaro Soler. Perché?. Alvaro Soler e lo strano incontro con Emma Marrone. Lei vincitrice e direttore artistico di Amici, il talent show di Maria De Filippi, lui è stato giudice di X Factor, il programma di successo in onda su Sky. Emma Marrone e Alvaro Soler sono due talent diversi che si incontrano, l'anno scorso in una canzone spagnoleggiante, che in poco tempo è diventata una hit di successo, ora per per una fantastica performance insieme. Stasera, quasi ad un anno di distanza dall'uscita di Libre, la canzone che li vede cantare sulle note dello stesso pezzo, i due si esibiranno all'auditorium del Parco della Musica. Lo strano incontro, strano perché la canzone con cui si esibiranno insieme è uscita ben un anno fa, vedrà unire il fan del cantante spagnolo Alvaro Soler e gli ammiratori della cantante pugliese Emma Marrone. Due artisti completamente diversi, uniti per l'amore della musica. Un esperimento decisamente riuscito. Emma Marrone incontra Alvaro Soler. Negli scorsi giorni, la cantante nata ad amici era in compagnia di Gianna Nannini in vacanza con Emma Marrone. Le due si sono godute una giornata all'insegna del relax, prima di immergersi nuovamente a capofitto nel lavoro. Dopo il bagno in piscina con la regina del rock italiano, Emma è pronta a duettare insieme al cantante spagnolo più apprezzato del momento. Alvaro Soler. I due si esibiranno insieme sulle note di Libre, canzone che ha segnato l'estate dello scorso anno. In attesa di ascoltare nuova musica di Emma Marrone, i fan del direttore artistico di Amici, il programma televisivo di successo scova talenti di Maria De Filippi, potranno godersi la performance con Alvaro Soler all'auditorium del Parco della Musica. Un'estate decisamente ricca per i due artisti, che pur avendo due stili completamente diversi riescono a creare qualcosa di unico grado di unirli. Un'estate decisamente ricca per i due artisti.